Musica Stava bruciando un cumulo di serpaglie sulla sua proprietà in frazione Spineto quando è rimasto ostionato. E' accaduto oggi, mercoledì 14 marzo, intorno alle 16, in frazione Spineto di Castellamonte ad un uomo di 65 anni. Sul posto sono prontamente intervenuti la croce rossa di Castellamonte, i vigili del fuoco di Vrea, i carabinieri e le risoccorso le 118. Pare che l'uomo sia caduto, forse a causa di un malore o forse nel tentativo di spegnere il rogo, sulle fiamme e abbia riportato ostioni di secondo e terzo grado sull'80% del corpo. Subito stabilizzato dai sanitari, è stato ritrasportato all'ospedale CTO di Torino in gravi condizioni. No, vabbè, col cellulare. Io comunque arrivo su adesso, ok? Grazie. 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 Grazie.